La prima volta, la prima volta è male. Diretta le ultime news di Radio Corso. Eccolo qui, ha fatto una straordinaria gara. Piras, complimenti anche l'inchimo, si permette. Bravissimo, bravissimo il nostro Piras. Questione del gruppo adesso da vedere come andrà a finire. Eccolo il numero 40. Andrea Piras, vincitore qui a Corte Franca. Una bella gara tutta all'attacco che ti ha regalato una bella vittoria. Sì, sono partito nel terzo e ultimo giro. Poi ho visto che era buona, mi sentivo bene e ho detto la balla spacca. Ci sono arrivato. A chi la dedichi? A miei genitori che fanno di tutto per me e al mio allenatore che mi ha preparato bene. Piras ha fatto una bella azione partita da lontano e non siete più riusciti a prenderla. Io vengo da una settimana non molto in forma. Non credo che avrei potuto entrare in questa fuga. Però no, il gruppo non l'ha preso e va bene così. Un bel perzamento, comunque un bel secondo posto. Sì, soddisfatto. Ti rifaccio la domanda che ho fatto a Josué. Non siete riusciti a organizzarvi e andare a prenderlo? Non ci siamo organizzati molto bene perché c'erano quelli che cambiavano, alcuni no. Quindi alla fine il treno non c'è stato per andare a prenderlo ed è andato via. Però comunque sono molto contento. Non siete riusciti a prenderlo ed è andato via. www.pianetaciclismo.it Il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it Il ciclismo, come non l'avete mai visto. www.pianetaciclismo.it www.pianetaciclismo.it